Ciao a tutti ragazzi, siamo su questo nuovo video di LeonTube con Jacopo e andremo a fare una mappa horror un po' Che non so se ho tanta voglia di farla Secondo, abbiamo già provato tipo due... Due volte Jacopo, guida te stavolta, stavolta io non guido Sì lo so ma non mi hai fatto mettere Fammi mettere Anche io Ah è difficile guidare con banana Io guido bene Io guardo le nostre spawn Chi è sta roba? Oh in prima... da quanto stiamo andato scusa A 26 Sì è un po' inquietante Qualcuno di noi ha detto una roba in giapponese Però le cinese... le robe cinese giapponese che noi non mettiamo Una casa? Meglio intrarci? No no dai andiamo là Continua Va bene Eh... scendi Jacopo Fermo Guarda cosa c'è Un punto l'acqua L'anno scorso sto bottone non la va... Cioè sembra un hotel La scorsa volta che non... Dov'è l'auto? È sparita Ce l'hanno rubata Sì Jacopo Mi sa che adesso ci fa entrare Sì mi fa una camera adesso che ci fa entrare Dov'è? Sì ci fa entrare Ok fammi vedere dietro se c'è qualcosa Jacopo siamo a fianco C'è una torcia bassa Oh Qua c'è una cosa Non ti appare Non ti può schiattare Jacopo Moriremo secondo te Non lo so Di infarto Eh sì va bene Moriremo di qua Un attimo Credo che ha detto Credo che ha detto Che la porta è bloccata Tanto c'è il mio gattino qua A proteggersi A proteggersi Io sono in una stanza da solo Gli ho aperto la porta Non ci fa più andare Non ci fa più andare Ci sarà qualcosa Eh no forse dobbiamo andare adesso dai condotti Come Among Us Boh proviamo Vediamo Vediamo Sì ci fa andare Dall'avento Ok Ecco Adesso Ci farà andare Vediamo come si fa Speriamo che Che non sia pauroso Come quel Quello dell'altra volta Sì che abbiamo fatto Ah sì se non l'avete ancora visto il video Guardatelo Ok Quello ci vorrebbe molto piacere Che lo vedete No da questa parte non si può ancora andare Ma scusa Guarda sopra Boh controlla Soltiamo poco Abbiamo la corda che si fa andare Lenti No Jaco proviamo Ritornerà la macchina Un secondo Si vede Jaco Un video Attraverso Sta fessura Si vede Però andiamo insieme Non mi lasciate solo Spera guardiamone i panni Andiamo Proviamo a riprendere Così ci sblocca questa parte Boh Perché da questa parte Non c'è niente È bloccato Sei stato tu? No È un'altra scritta Ho premuto Ci facciamo ancora premere Oh dai Guardiamo Anche sì Io ho paura Ok Credo che adesso Ci sia andato qualcosa Credo che Ecco Tanto Siamo in un gioco È vero Vediamo le finestre Che ci facciamo ancora Ehm Ecco ecco Jaco Ti fa entrare? Si Ah Le venti Vai Jaco Vai Dai che cavolo mi fa paura il rumore che si camminiamo no raga mi fa paura che ci sia qualcuno che dice di noi siamo arrivati da un giorno a casa che schifo il bagno cos'è questo per te l'olio leo vieni io ho paura lo può bloccare e siamo bloccati ecco ecco ho fatto qualcosa controlla nel video stami vicino ho paura ho molta paura no no guarda guarda ecco dai i rumori spaventosi non è giusto che li fanno dai gli occhi degli occhi no dai che paura mi viene di dire paura dai dai vi prego qua scrivevano qualcosa nel tavolino non si può fare niente si adesso ci fa andare adesso ci fa andare dove qua vai guarda sempre io avanti per tu ma io vado sempre dietro qua qua non si può fare niente qua non si può vedere niente qua non si può vedere niente è un incubo è un incubo farla perché non l'abbiamo mai un secondo io sono vicino a mia sorella io sono vicino a mia sorella vieni qua un attimo ti sento eh io che parlo che parli si lo so oh c'è un orso cosa niente no senti però tu che fai va bene si stavolta la caracca stavolta e si riscone e che infarto già con torniamo nelle condotte siamo bloccati qua niente niente sto facendo vuole il caso già qui vieni vai avanti perché io sempre uffa oh vinta 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 che ti dito eh eh sta porta non ci può fare senza niente Giacomo oh oh d'agliac aspetta cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo fare mamma vai avanti ok facciamo fatti cosa aminare eh 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 non so ragazzi come avanti a torna indietro si è aperta una porta e ovviamente sono le scade che portano di sotto certo Giacomo vai please andiamo vai vai avanti tagliati lungo perché si ok la prossima cosa che ci fu paura ecco Giacomo ecco Giacomo guarda un passaggio del bidone adesso per me adesso la è aperto si è adotto uno specchio c'è qualcuno in questa casa oh raga no vabbè che bello cacchino Giacomo vai avanti Giacomo ma io che schienno scusa spiderman nero adesso io ti faccio la luce luce io vado indietro cosa niente perché mi continui a fare a caso no c'è ancora mi metti l'ansia come hai fatto con la la luce funziona 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 dai giustella giustella lì ma adesso dove andiamo adesso avremo avremo aperto qualche porta ci sono gli insetti nel cibo fa vedere ci sono gli insetti nel cibo ma dove li vedi andiamo ma qua è buio però vediamo come ha preso fuori ancora niente qua è macchiato faccio una bellissima tv hanno tanto ma che cibo c'è perché devo l'ansia brocchetti questo vetro che serve io ho capito un colpo mi sento un colpo mi sento io ho capito io ho capito sto forza però proviamo a scendere ma di sotto se è successo qualcosa no non è successo niente di sotto oh dai mi cago sotto io andiamo stiamo andando indietro perché sta cosa è tutta forza sta forza ti posso fare qualcosa no no ma lì ci doveva essere si sente sorella si lo so che si sente per me è ancora bisogna fare qualcosa perché è tutta sporca brutta giacca cosa facciamo adesso c'è ancora il cibo con gli insetti ma dove li vedi gli insetti guarda vedi ste cose volanti cosa i insetti veramente non li vedi ma che robi volanti vabbè senti ciao ok vai a solo questo cibo è sano c'è il formato c'è il vino rosso ecco giaco vai 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 nella radio c'è tipo qualcosa giaco chiude gli occhi chiusi gli occhi chiusi o quando finisce vai 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 guarda dietro guarda dietro guarda dietro quando c'è ti posso stemare la luce la luce ti posso stemare no dai dai cosa la stampa non ci riusciamo vieni con me o mi lasci da solo a modella di un po' o dai si manchi full almeno sono odiosi oh oh si posso risistemare la luce no, non l'ho sistemata raga un secondo cacca lento adesso come ti diceva? alleluia lento e posto alleluia ha smesso? è finito raga un attimo di nuovo ma io pensavo che era un po' triste non pensavo che era un cacca morto un cacca morto che si deve lasciare la cacca di sotto eccomi ecco raga ha smesso meno male facevo jaco oh lo imiti benissimo il suono dai jaco non cagarti sotto andiamo ho una torcia e sarò molto pericoloso con una torcia ah finalmente si è aperta sta porta spero che non sia niente di mamma jaco le ho visto una faccia di di schifo anch'io ho visto una faccia proprio brutta brutta e e no jaco no jaco ha visto una faccia molto brutta avvicinati e chiudi gli occhi vai vai aglio 331 vai jaco non abbiamo anche se non mi direi che dobbiamo avvicinarsi ancora dai jaco vai no io vedo uno schifo anche da io vedo uno schifo dal buco anche io oh dai jaco facciamoci forti vai vai avanti tu che sei il più grande oh dai jaco sei il più grande oh oh jaco jaco ma no mi sono mi sono jaco dai basta no io credo che abbandono anch'io raga quella fa c'è uno che fa c'è che fa c'è gaia e non la far vedere la tua sorella vai ah dai si via ma è tempo no ma sto facendo il video oh dai di nuovo oh no no ho paura oh alleluia la forza della guancia non fa raga 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 comunque iscrivetevi attivando la campanella e di lasciando tanti like e la metto nel snuffere per vedere perché io qua mettete like mettete like se vuoi lo sing credete che noi non facciamo completare la mappa e che non siamo fiffoni no mettete like mettete like perché per quanto no la porta della faccia di brutto non ci vado basso dai dai jacob no le ho abbandonato le ho abbandonato no no vai vai jacob dai gli occhi sugli occhi sei un tifone perché perché devo abbandonare perché non succede niente ma no non sei un tifone no no mi trema il piede a me da switch mi vede baggato madre con più forse no switch no no non ci vede più baggato o dai jacob torna indietro cosa facciamo ahhh 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 mi sono preso un infatto mortale ahhh 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 Aiuto Andiamo Rago Dotti una mano Dai Dotti un taglio Dai Aiuto Yako forse abbandoniamo Già intanto è quello che abbiamo fatto Non so che già il taglio Che schifo qua c'è il butter dish rack Yokago Ma come c'è il butter dish rack Ma dai Credo che dobbiamo andare avanti a farci parte Fai l'urlo di guerra Non mi fai paura brutto stupido No Yako Non mi fa avanzare Aiuto Dove devo correre Io sono bloccato Aiuto Io chiudo gli occhi e sto fermo Io anche io Yako puoi tornare indietro Sono da solo Io sono da solo Io sono da solo Nei Condotti Aiuto Ah si Non mi fai paura brutta faccia Non mi fai paura Non mi fai paura Non mi fai paura Brutta faccia No io non abbandonano mai Io non capisco da che parte devo andare Appena Appena venire Yako perché mi hai lasciato solo No Yako No Yako Io abbandono No No Yako Abbandoniamo Abbandoniamo Raga Non ce l'abbiamo fatta Abbiamo troppo paura Dobbiamo terminare la registrazione Sì Ce l'ho fatta Sono uscito dalla casa Libertà Yako ma io no La macchina La macchina La macchina La macchina Grazie al cielo Yako ma io non posso uscire Vabbè dai raga Facciamo finta L'abbiamo completata Perché l'infarto è costitato E ciao Ok è finito